Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18 118! Eccoci qua, siamo nel mese di marzo Prima però di iniziare la prossima partita Voglio farvi vedere quanto è successo nei mesi precedenti Perché questo? Perché Perché non avessi visto il video precedente Diciamo che a livello di risultati c'è stato abbastanza un tracollo Calcolando che noi siamo alla prima e fino ai mesi prima di questo Ci eravamo comportati in maniera super, non adeguata Super, perché? Perché siamo alla nuova promossa Quindi se erano promosse e essi subito comunque nella prima posizione Fino quantomeno a metà anno secondo me è un rendimento super Comunque praticamente è successo questo Allora abbiamo iniziato il video precedente Vincendo pronti via la partita di Coppa di FK con Newcastle per 2 a 0 Poi abbiamo vinto 3 a 2 con Leeds Una vittoria abbastanza sofferta dal punto di vista del risultato Poi perso col Millwall in trasferta Perso in casa col Wolves 1 a 0 Perso in FK con Crystal Palace e conseguente eliminazione E poi l'ultima partita di campionato di trasferta è pareggiata Questo è quanto è successo il video precedente Ve l'ho fatto vedere e farvi vedere appunto Come ho detto prima che c'è stato una sorta di mini tracollo Che spero possa interrompersi in questi video qua Quindi Cosa voglio Cosa voglio sperare in questo video Cosa voglio fare Innanzitutto Dato che ci sono Come vedete Solamente Rispetto soprattutto alle altre volte 4 partite direi che quella in trasferta Me le gioco tutte e due E altre due le simulo Anziché fare come è già successo prima Prima Negli altri video Simulare a volte anche quella in trasferta E oltre a ciò Voglio sperare veramente Soprattutto quando simulerò le partite Che si interrompa questo periodo Diciamo no Che purtroppo Si è cominciato un po' a creare Nel precedente video Come ho fatto vedere prima Parentesi E' vero Le gioco E neanche se le gioco Allora automaticamente le vado a vincere No Però Diciamo che eventualmente A differenza di Intanto metto che Perché va bene tutto Vado avanti Però a differenza di Si muove la partita Nel quale appunto Terminare la partita è andata E non puoi farci niente Formazione Cioè Il gioco va avanti da solo La partita la gestisce Diciamo il compito Anche la nostra Magari Eventualmente Se perdo è colpa mia E se vinco È colpa mia Capita Non so Avete capito cosa voglio in te Diciamo che Sono io eventualmente A A far sì Spero di no Che la squadra perda Non il computer È solamente per vedere Comunque se la squadra Magari A livello anche manuale Si comporta in maniera diversa Come ha sempre fatto O addirittura O addirittura C'è qualcosa Di strano Vabbè Banda alle ciance Anche se magari Fatti discorsi che Possono essere capiti In meno Gioco Sperando che Giocando Appunto Il risultato finale Possa essere diverso Da quello visto Tutte le partite simulate Insomma Adams Mamma mia Dalla distanza Sfiora la rete Vai Gomez No attraversa Maledetta la miseria Vieni Van Bergen Fai go Madonna Vai Brereton Eccolo lì Finalmente Brereton La sblocca Quasi al 27esimo Del primo tempo Finalmente Abbiamo avuto 8700 occasioni Tra l'altro Non sfruttate Dai dai Si è trovato anche il gol Meno male Buono Via 1-0 La sblocchiamo così Vai Van Bergen Guardiamo se riusciamo A chiuderla Dio Finisce così Torniamo Alla vittoria Però C'è da dire una cosa Ok è vero Nel primo tempo Abbiamo avuto Parecchie occasioni Però Abbiamo vinto Solamente 1-0 Contro il Rochidel Che se non erro È l'ultima O comunque Milita per ora Nelle ultime posizioni Della classifica Quindi siamo Sono contento Per la vittoria Ma Diciamo Non Per il risultato In sé per sé Vabbè Però È già qualcosa No Dio soprattutto Perché nel primo tempo A parte quel tiro Così di Van Bergen Non abbiamo fatto niente Per l'amor di Dio Non abbiamo concesso niente All'oro Come vedete All'oro hanno fatto Un tiro E zero tiro in porte Però noi A parte quei Come ho detto prima Quelle occasioni 2000 occasioni Capitate così Una dietro l'altra Il primo tempo Poi Lui abbiamo trovato il gol E niente Abbiamo avuto una mini occasione Con Van Bergen Ma E basta Il primo tempo Ovviamente Sia per noi che per loro Avevano le occasioni Sono stati inesistenti Vabbè Comunque Importante Poi Aver vinto Prima di arrivare Alla partita successiva Voglio farvi vedere Che abbiamo venduto Altri due giocatori Che chiaramente Ci saluteranno Quando inizierà il carciomercato In questo caso estivo E abbiamo venduto Vabbè Prima Santa Maria Ai Blackburn Rovers E poi Jonathan Serena Alla Ternana Anche lui Dico anche lui Perché non ricordo chi è C'è un altro giocatore Che andrà O è andato Alla Ternana O mi ricordo se C'è andato poi Alla Ternana Invernale Comunque Anche loro due Sono stati venduti Serena soprattutto In base Al Al Suo reale valore È stato venduto Una grande cifra Anche se in realtà Per quanto ci riguarda Sono pochi soldi Ecco Vabbè Comunque Eccoci arrivati Alla seconda partita Giochiamo in casa Contro il KPR Io la simulo Speriamo bene Speriamo che Quando almeno Giochiamo in casa Dopo la vittoria di prima Possiamo tornare a vincere Come facevamo Nei primi mesi Della stagione Partita iniziata Vediamo un po' Foyt la sblocca Il 27esimo Buono Gomez Stradoppia Buono Gomez 3-0 Perfetto Vai Tra l'altro Non abbiamo nemmeno Impreso Neanche in questa partita Qua Perfetto Io sono contento Un bel 3-0 Simulato Buono davvero Terza partita Del video Giochiamo fuori casa Contro il Basley Ok Lo gioco Come avevo detto prima Per quando ci sono poche partite E Ho paura di perdere O perlomeno di non fare Un buon risultato Quando posso In questo caso In trasferta Le gioco Allora La partita di prima È stata solamente Qualche giornata fa Chiaramente Come immaginavo Qualche giocatore Un po' soffre Vediamo se si può fare qualcosa No Dai Iniziamo Così Poi eventualmente Se vedo che qualcuno È troppo stanco Faremo dei cambi Durante la partita Vieni Guarda Maulida nel mezzo No No Peccato Vai Maulidino Maulidino No scherzo Maulida Al sessantesimo La sblocca lui Buono Attenzione Mamma mia Boiade Meno male Ha tirato la centrale Perché non so se Svilar la prendeva Attenzione È finita Sì è finita Non male Ho tirato una bomba Al volo Complimenti È stato un bel tiro Caraba Al Alto di poco Attenzione Attenzione No sul finale Bravo Svilar Attenzione E andiamo Un'altra vittoria Un'altra vittoria Però come la prima Abbastanza Di misura Ecco Una vittoria di misura Abbiamo vinto solamente 1 a 0 Ci sono messi una partita Comunque Più complicate Rispetto Alla prima Come vedete Dalle statistiche Sono chiusi abbastanza bene Non ci hanno permesso Di fare quasi niente Meno male abbiamo trovato Quel gol con Maulida Quindi grazie Maulida E niente Però Sicuramente Sono più contento Della vittoria Anche se è venuto Una a 0 Rispetto alla prima Perché appunto Loro erano più forti Però Dobbiamo come sempre Cercare di Non lo so Creare un po' di più Per quanto In attacco Per quanto riguarda Soprattutto La fase Realizzativa Ecco È una cosa che ci manca Però Sommato Sono contento Sono contento Perché toccandomi Bisogna vedere sempre Tutta la partita Sembrerebbe Che La mini crisi Che Si è venuta a creare Prima Siamo Scomparsa Però Chi lo sa Guardiamo come Finiamo il video Eccoci arrivati All'ultima partita Del mese Ed io in sequenza Del video Allora Stavo per andare avanti L'ultima me è venuta La scrittina Che rischiavo di perdere A tavolino Perché Perché Come potete vedere A parte A bene i titolari Brereton E Svilarre Per quanto riguarda Papanchinari C'è Una problematica Che si era già presentata Diciamo in passato Quanto riguarda Questa stagione Ovvero Il discorso Della nazionale Quindi sono dovuto Corriare i pari Risultato Andando a prendere Qualche svincolatoni Ho preso Tre svincolatoni Uno per ruolo A parte del portiere Ovvero Lui per quanto riguarda L'attacco Lui per quanto riguarda Il centrocampo E lui per quanto riguarda La difesa Sì Quelli che secondo me Sembravano Un po' più forti Rispetto agli altri Ma Mi sembrano Grazie Oddio Loro per avere 19 anni Perché lui c'ha 19 anni Vero? 20 Quanti ce n'ha? 19 No lui 20 Possono anche andare bene Lui mamma mia Vabbè però L'ho preso solamente Per far numero Quindi niente Ci se ne va a farvelo A dirvelo A farvelo presente E niente Andiamo avanti Siamo la partita Guardiamo se va già Per esempio A posto di Brereton Silla Ok Poi va a Borgia Che è uno portiere Che non viene considerato Anzionale Che ci rimane In porta E niente Procediamo E guardiamo Come ho detto prima Di concludere Se è possibile Il mese E il video In bellezza Buttandoci alle spalle Quella mini crisi Che sembrava Si fosse un po' creata Allora comunque L'undicesimo Buona La sbloccata Edwards Per loro Per domo Al quarantunesimo Pareggio Poi Nello stesso minuto Ovvero al cinquantatriesimo Sono due golle Prima il nostro Comunità Poi Hegel Di loro Adesso per finire Vediamo un po' Niente 2 a 2 Ecco Come ho detto Non ho capito Bocca prima Certo Non abbiamo perso Però Non abbiamo fatto Nemmeno 4 su 4 Ovvero 4 vittorie su 4 Peccato La verità Mi scorcia un po' Avrei preferito Sicuramente Vincere anche questa Però Mettiamo anche Che non avevamo Il nostro portiere Titolare Che ha Come vedete 79 E potrei dire Anche 80 Come vedete In basso a destra Ecco è andato via Vabbè Ma bensì L'altro E poi avevamo Il nostro Nostra punta No Il nostro bomber Che era Brereton Quindi tutto sommato E' capibile Questo 2 a 2 Vabbè Però ripeto Alla fine abbiamo pareggiato Non abbiamo perso Vabbè Mi avvio Alla prossima vettida E poi arrivo Alle classiche conclusioni Eccoci arrivati Alla partita Del prossimo mese La prima partita Allora Guardiamo un po' Quante partite ci sono Boh via Deve esserci 4 partite A marzo Poi ce ne sono Ben 8 Sì 1 2 3 4 5 6 7 No scusate 7 partite Non so come L'ho visto 8 Vabbè 7 partite Quasi il doppio Probabilmente Allora Qualcosa simuleremo Anche se Gio che dovessimo giocare In trasferta Sicuramente Tutte vella in casa A meno che Non mi ricordo La classifica O si Cioè Preston Partite vella A meno che appunto Non ci sia Qualche partita Importante Per adesso Simuliamo Tutte vella in casa E simuliamo Qualcosina Anche in trasferta Contra le squadre Che sulla Sulla carta Dovebbero essere Un po' Più Debole Sulla carta Intendo che In classifica Sono più Basse Vabbè Quindi Sarà un mese Piano di partite Probabilmente Anche un video Un po' Più lungo Rispetto a Questo Qua Comunque Un brevissimo Davvero Ci provo Ho reso conto Di quanto è successo Come ho detto Prima La crisi Sembrerebbe Essere andata via Peccato Non aver fatto 4 vittorie Su 4 Nelle Appunto Nelle 4 partite Del precedente mese Ovvero Quello di marzo Però Quella mini crisi Come ho detto L'importante È che Quella nebbiona No Nera Quella nube nera Sembrerebbe Essere andata via Sembrerebbe Per quanto riguarda La classifica Queste partite qua Ci hanno permesso Di Allora Innanzitutto Andare a 10 punti Alla seconda Che non è assolutamente male Dato che Comincerà a mancare Non tante partite Perché ci sono 46 in totale E noi abbiamo fatto 37 Quindi mancano 9 partite Quindi 10 punti Non è assolutamente male 10 punti Dalla terza Che però È una partita In più di noi 11 Dalla quarta Che anche loro Anche la quarta È una partita In più di noi E poi si va a scendere 12 Dalla quinta E 13 Dalla sesta E addirittura Per quanto riguarda Proprio Andando fuori La playoff Ben 16 punti Dalla settima Quindi Nonostante il pareggio finale Comunque abbiamo Questo video qua Queste partite qua Ci hanno Permesso di allungare Dalle nostre Inseguitrici Buono è così Fra l'altro Se non erro Nel prossimo mese C'è appunto In trasferta Mette contro Lo sguanzi Che sguanzi appunto Lo sguanzi Come ti hai visto È secondo Quindi Se dovessimo vincere Possiamo Allungare Il nostro distacco Quindi No tutto sommato Che tutto sommato Sembra che sia andata male Ma però Qualcosa di buono È venuto fuori No Questo video Posso dire Che è stato Molto molto positivo Non ottimo Perché Come purtroppo Già spesso succede Non abbiamo vinto Tutte le partite Del mese Ma poi c'è quella lì Che perdiamo E fareggiamo Peccato Però È andata veramente bene Bene così Insomma Detto questo Come sempre C'è il salutarvi Vi ricordo di mettere Barra a fare Le solite tre cose Ovvero Lasciate il bel mi piace Al video Se il video vi è piaciuto Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Che poi la cosa È importante Per rimanere aggiornati Su tutti i video Che caricherò Non solo di queste serie qua Via Basta Non dico altro Vi aspetto Nel prossimo video Nel quale appunto Inizieremo aprile E forse forse Vi dirò la verità Potrebbe essere anche decisivo Anzi Sarà Sicuramente decisivo Perché mancano le partite Per quanto riguarda Le sorti Di questo campionato Le nostre sorti Via Quindi vi aspetto Sarà un video Molto molto importante Spero anche Emozionante Via Vi aspetto Ciao Emozionante 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 Emozionante